e tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi giornata non fredda di più gelida ma sempre pronti e carichi per andare a vedere il nostro benevento oggi prima della partita vi dico iscrivetevi al canale lasciate un bel like che è gratuito e ci sostenete tanto detto ciò oggi benevento monterosi ragazzi c'è già a dirlo se in bassano ultime in classifica tanti cambi per il benevento deve essere una partita da non sottovalutare però che ci dici allora il benevento in totale emergenza in tutti i reparti ben 11 gli assenti giochiamo contro il monterosi che è ultimo in classifica a 9 punti e poi soprattutto è il secondo peggior attacco è il secondo peggior difesa del campionato e di cosa bisogna dire bisogna comunque stare attenti andreoletti ha chiesto un benevento perfetto che deve essere perfetto e soprattutto a quattro dubbi di formazione andreoletti che vedrete sui nostri social come sempre che pubblichiamo la formazione detto ciò io rassumendo tutto ci maniamo facile oggi quindi incrociamo le dita e ci vediamo a fine partita ragazzi partita terminata finisce 2 a 1 un po di non tremare la sudore nel finale può essere però voglio iniziare dicendo in questa partita l'abbiamo vinta e questa vittoria è importante soprattutto per il morale dei ragazzi in previsione del big match del primo big match che si aspetta contro la juve stab in casa loro quindi porta morale però però primo tempo ottimo con tante occasioni forse due sprecate monterosi che non ci ha mai intimorito forse con una penetrazione una palla tra le linee da centrocampo che ha portato il loro attaccante avanti la porta e grande valeari come sempre che ci ha salvato non in questa occasione ma in due tre occasioni in maniera proprio importante quello che fa riflettere che in alcuni momenti stacchiamo la corrente proprio dal ventesimo al trentesimo a un certo punto l'abbiamo davvero staccata nonostante dal livello tecnico eravamo molto molto superiori però questo non vuol dire niente e lo dimostra oggi poi il risultato finale finiamo il primo tempo con due gol di vantaggio quindi si rientra con giustamente anche calma se a volte troppa calma e si cercano di creare delle occasioni prendiamo due pari la traversa sbagliamo dei gol avanti la porta questo inizia ad essere molto importante perché poi arrivi all'ultimo che prende un gol da pollo come al solito e riapri la partita a pochi minuti dalla fine quindi su questo sicuramente dobbiamo migliorare però si sono viste delle piccole riprese portiamo questa vittoria che per me conta a zero perché comunque poi se andiamo analizzare dal punto di vista tecnico e tattico siamo stati superiori siamo stati noi a concedere tanto a loro cioè certe volte non capisco perché non andiamo a chiudere soprattutto al limite dell'area nei tiri dell'avversario detto questo ragazzi oggi è esordito sorrentino non nulla da dire non è valutabile però vorrei sapere anche la vostra su questa partita che finisce 2 a 1 per il benevento quindi a voi commenti noi ci vediamo in un prossimo video un buon bacione a tutti e con la